Cerno, bisogna però ricordare al nostro pubblico che ci fu un precedente illustre, Marlazzo anche lui lo ricorda, che è quello di Silvio Berlusconi, che da Presidente del Consiglio si candidò alle elezioni europee. Io rispetto e condivido il ragionamento di Feltri e del Fornero, però dobbiamo dirci tutta la verità. Intanto il nome dei leader è scritto sul simbolo, quindi loro sono candidati anche se non si candidano, perché ormai i simboli dei partiti ci hanno scritto sotto Meloni, ci hanno scritto sotto Salvini da un sacco di tempo. Seconda questione, nell'Europa di oggi contano i parlamentari eletti, ma come abbiamo visto contano tantissimo i governi. Quindi un Premier che prende tanti voti dai suoi cittadini, anche se non si siede in Parlamento, conta di più come leader quando vai in Europa a trattare. Questo lo dimostra Matteo Renzi, che vincendo le europee come segretario del PD divenne Presidente del Consiglio in Italia. Cioè ci fu il più grande rovesciamento della logica costituzionale, per cui noi abbiamo avuto un Premier che prese i voti nelle elezioni per un'altra cosa. E questo è successo in questo Paese. Quindi giustissimo tornare a una politica trasparente. Ma allora togliamo i nomi dai simboli, non facciamo quando ci comoda finta che andiamo a votare proprio il candidato. E poi dopo perdi le comunali di Canicati e chiedi al segretario del partito tu hai perso le comunali di Canicati, il tuo devi dimetterti. Perché poi l'Italia anche è questa. Ecco, questo voglio dire. Cerchiamo di dircela tutta. Allora, senti, diciamo...